Chi conosce bene la nave ci può dire anche dove poter entrare, un accesso un pochino più, diciamo, più facile anche per noi, più largo, più ampio. Ecco, queste sarebbero magari le notizie, ci farebbero piacere, ecco, magari da qualche momento. Che vi arrivano o non vi arrivano? Sì, arrivano, però magari le planimetrie sono, l'abbiamo recuperate ieri sera. Dopo un giorno? Dopo un giorno, sì, quasi. Non vi sono state fornite dalla comunità? Ma questo non glielo so dire io, l'abbiamo vista ieri sera noi planimetrie e poi, e da lì, insomma, abbiamo cominciato a fare immersioni mirate nelle varie gabine, in questo caso. E la parte di immersa, diciamo, sul fondale, quella forse era più difficile. Perché, prima di tutto, finché non abbiamo la certezza che la nave sia veramente ferma, ecco, lì, ecco, magari è una zona che ancora per noi può essere difficile. Quindi ancora lì non siete andati? Ancora proprio in fondo, in fondo, penso non siano andati, però insomma, ci proviamo. Appena sappiamo con certezza che la nave, magari da tecnici anche esterni, la nave non ha fatto alcun movimento o traslazione, magari ecco, quella è anche una certezza per noi, per andare eventualmente a fare un'immersione proprio in fondo. Sì, in genere ci muoviamo sempre in gruppi di tre, quattro persone e con personale anche sempre pronto per un'eventualità di un problema in superficie, con tutti, diciamo, costigeno terapeuti in superficie, non contare problemi in dimensione, insomma, abbiamo tutte le sicurezze. Vi siete fatti un'idea, voi sperate ovviamente che siano attivisti, ma dove possono essere le eventuali... Eh, noi, noi ci danno indicazioni da vari planimetri che abbiamo, poi noi facciamo altro che andare a vedere e riferire a quello che troviamo, insomma, dove possiamo arrivare. La certezza quella magari è...